Ben trovati a un nuovo appuntamento con le previsioni nel dettaglio in provincia di Salerno da Andrea Raggini di www.meteogioliaci.it Nei giorni scorsi il tempo è stato prettamente soleggiato ma con temperature decisamente alte per la stagione. Cambierà leggermente la situazione a cavallo delle giornate di giovedì e venerdì. Soprattutto venerdì l'avvicinamento di una perturbazione potrebbe relegare nuvolosità in costante aumento e precipitazioni dal mare verso le aree interne della campagna. Quindi parliamo anche della provincia di Salerno. Locali rovesci e temporali non saranno quindi da escludere. Le temperature scenderanno di 2-3 gradi. Avremo valori massimi intorno ai 19-20 gradi. Ventilazione in rinforzo. Ma la situazione andrà rapidamente a migliorare tant'è che il fine settimana godrà del sole su tutta la provincia. Le giornate di sabato e domenica vedranno infatti cieli sereni o il più poco nuvolosi su tutta la provincia. La ventilazione sarà dai quadranti settentrionali. Le temperature minime saranno in leggero calo comprese tra 15-17 gradi. Valori massimi invece sempre miti intorno ai 23-25 gradi. Per quanto riguarda l'inizio della nuova settimana non avremo cambiamenti degni di nota. Infatti le giornate lunedì e martedì probabilmente vedranno ancora il sole protagonista con temperature in leggero calo. Valori minimi intorno ai 12-14 gradi. Valori massimi invece che torneranno leggermente a scendere ma comunque miti compresi tra 21-24 gradi. Fino alla giornata di mercoledì non si prevedono peggioramenti. Per questo appuntamento è tutto. Auguro a tutti voi una buona settimana e vi ricordo di seguire il sito www.mediagiuliaci.it Grazie.